Otto anni e un mese ciascuno, tanto dovranno scontare in carcere i due Rom di 15 e 17 anni accusati dell'omicidio di Antonio De Meo, lo studente a 23 anni di Castel di Lama, ucciso a pugni lo scorso 10 agosto a Villa Rosa di Martinsicuro. La sentenza è stata emessa ieri pomeriggio con rito abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dell'Aquila. I due Rom, uno di Albadriati che l'altro di Falconara, sono stati così condannati per omicidio preterintenzionale. È stata così respinta la richiesta di messa alla prova avanzata dai legali Luca Sarodi e Pier Giuseppe Sgura, che hanno preannunciato ricorso. Il terzo Rom presente al momento dell'omicidio, lo ricordiamo, avendo 14 anni, non è imputabile. Giustizia è stata fatta per i parenti e gli amici di Antonio De Meo, non proprio completamente, perché forse si aspettavano una pena più severa per un omicidio, ma il rito abbreviato prevede una riduzione della pena. Resta il fatto che Antonio non c'è più, morto per una lite scoppiata per una bici contesa. Antonio, dopo aver terminato il lavoro di cameriere in un albergo di Villa Rosa, stava mangiando un panino in un chiosco lungo la strada, quando fu aggredito dai tre nomadi con i quali aveva avuto una discussione. I pugni che il giovane ricevette sul volto e la testa gli risultarono letali.